Si registrano ancora disagi presso il distretto sanitario 70 dell'ospedale civile di Agropoli. Dallo scorso mese di maggio diversi cittadini recandosi presso lo sportello Ticket lo hanno trovato chiuso. In particolare è capitato più volte, ci fanno sapere, che nel pomeriggio lo sportello sia quasi sempre chiuso. Non un cartello per chiarire i motivi della mancata presenza del personale, né un avviso che possa invitare gli utenti a pagare il Ticket in farmacia prima di recarsi in ospedale. È il caso di una cittadina che nei giorni scorsi doveva effettuare una visita specialistica presso la struttura ospedaliera del pomeriggio e non ha potuto eseguire il pagamento perché l'operatore non era presente. Dunque il personale sanitario ha comunque visitato la donna e le ha riferito di recarsi in farmacia per pagare il Ticket e quindi di ritornare in ospedale per portare la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Insomma, se si considera che siamo in piena estate, che a richiedere le visite specialistiche sono nella maggior parte dei casi cittadini anziani che giungono anche da altri comuni che afferiscono al distretto sanitario 70 e che per effettuare una visita si deve già aspettare l'interminabile attesa per una data utile, il disagio triplica. Il mio consiglio, fa sapere la cittadina malcapitata, è quello di chiamare il presidio ospedaliero per chiedere se c'è la possibilità di pagare il Ticket prima di recarsi in struttura, altrimenti procedere al pagamento direttamente in farmacia, onde evitare inutili attise e malumori.